Quali sono le opzioni terapeutiche, farmacologiche e non per la sindrome fibromialgica? Ricordiamo che la fibromialgia è una patologia sostanzialmente non ancora riconosciuta in Italia, ma più che non riconosciuta come patologia, il problema è che nessun farmaco ha l'indicazione fibromialgia. Tutte le volte che noi trattiamo un paziente con la fibromialgia, lo trattiamo off-label. Questo per noi è un problema perché ovviamente anche da un punto di vista medico-legale c'è sempre questo rischio di dare un farmaco che non ha l'indicazione precisa che è quella di fibromialgia in pazienti che appunto hanno una patologia per la quale nessuna terapia è riconosciuta dal lema e dagli organi regolatori. È ormai però prassi comuni che noi abbiamo una serie di farmaci che definiamo adiuvanti o farmaci antidolorifici che hanno meccanismi di azione differenti, ad esempio come gli antidepressivi o gli anticonvulsivanti, che sono farmaci che io definirei meglio neurotrasmettitoriali, cioè sono farmaci che agiscono su alcuni specifici recettori che regolano e modulano il dolore, farmaci che non hanno semplicemente la loro azione derivata dal nome stesso del farmaco, perciò l'azione antidepressiva o l'azione sulle convulsioni o sull'epilessia, ma riconoscono anche una quota rilevante di importanza nella riduzione dei sintomi del dolore di natura centrale. Ovviamente a fianco di questo ci sono i farmaci tra virgolette tradizionali, c'è gli antinfiammatori che funzionano relativamente poco perché hanno un'azione soprattutto periferica e gli opioidi sui quali ci sono pareri discordanti, però ricordiamoci che una quota rilevante di pazienti con fibromialgia risponde anche agli opioidi, per cui è un tentativo terapeutico che personalmente faccio in numero rilevante di pazienti e ovviamente siccome non ho la possibilità di avere dei fattori predittivi di utilizzo dei farmaci, è importante con il paziente contrattare la terapia farmacologica, sapendo che spesso si arriva dopo tre o quattro tentativi all'approccio farmacologico ottimale e anche il paziente ci deve seguire su questa strategia, sapendo che è possibile che prima di avere un farmaco che possa funzionare se ne provano tre o quattro, proprio perché non abbiamo criteri in questo momento predittivi di risposta farmacologica in relazione ai sintomi che il paziente riferisce. Ovviamente c'è tutto anche un approccio non farmacologico per la fibromialgia, l'approccio non farmacologico si divide sugli aspetti riabilitativi, l'attività fisica è molto utile in questi pazienti perché innalza, diciamo, una volta che diventi più efficienti dal punto di vista muscolare, innalzi la soglia del dolore, ma molti dei nostri pazienti si sottopongono anche a trattamenti di carattere cognitivo-comportamentale, cioè una quota rilevante anche di disturbi psicologici e di personalità che possono attrarre il beneficio da una presa di coscienza di questi problemi, perciò una terapia anche con lo psicologo, che definiamo cognitivo-comportamentale in modo da essere educati su questa patologia, sullo stress, su perché questa malattia in qualche modo è così rilevante nel singolo caso del paziente e questo ovviamente consente una ristrutturazione a volte della personalità dell'individuo che gli consente di gestire meglio il dolore e di avere meno fastidi e una migliore qualità di vita.